Continua il viaggio di Telelibertà alla scoperta delle criticità dei quartieri di Piacenza. Siamo stati nella zona della piazzetta Sant'Agnese, dove i residenti lamentano una situazione di invivibilità. Sentite perché? Sarà la più brutta fontana d'Europa questa qui, ma nel modo piussuto, ma ve lo dico con sincerità, perché io abito là, passo spesso qui ed è quasi sempre in questo modo. Una volta funzionava, dieci volte no. In più, le dico anche una cosa, se è possibile chiudere una strada e sul marciapiede non passa un disabile, non riesce a passare con la carrozzella e nemmeno un passeggino, perché è facile che cada. Ma non è mica possibile in un centro storico queste cose. Sono inammissibili, nel modo più assoluto. Le piante, poi lei vede le piante, se le inquadra per gentilezza, vanno nelle case di gente. Poi hanno anche predisposto la catena per chiudere la piazzetta di sera, perché è un parcheggio sennò libero, però la catena non è arrivata, c'è una predisposizione. Qua ci mettono le auto di sera? A voglia, qui sì, perché ci sono locali in giro e di conseguenza parcheggiano dove c'è. Hanno privilegiato una via con un senso unico. Via Genocchi? E avendo chiuso due vie laterali per lo smaltimento del traffico, è giusto? È giusto che abbiano preso Via Angelo Genocchi per fargli un parcheggio a periferia del centro e noi che abitiamo non abbiamo il diritto di abitarci? Questa fontana qua non funziona mai, i bambini ci giocano, quasi se è la maniera di giocarti, c'è di tutto dentro, piccioni, acqua, residuo, immondizi, c'è di tutto insomma. Il comune ha detto che le spegne nella stagione fredda per risparmiare. Ma no, è due anni che ferma, perché? Abbiamo sollecitato molte volte, ma adesso non è di competenza dell'Ira, adesso non è di competenza del comune, c'è insomma una pallottola che si continua ad andare avanti e indietro, però la fontana è sempre lì e non si fa mai niente insomma. Noi abbiamo anche proposto, mettiamoci, non so, una statua di quelle che ci sono poi in deposito e noi facciamo manutenzione del giardino, non so, qualcosa tanto perché magari un bambino ci va e a meno ci gioca, non so, una roba del genere. C'è poi il problema dell'immondizia. Non riesce ad arrivare il camion dell'immondizia in fondo alla strada perché è chiusa. Qui una volta avevano tolto i bidoni proprio per quel problema lì e adesso li ha rimessi. Anche per chi ha un locale nella zona la situazione non è simile. Un disservizio che trovo molto rilevante è proprio il fattore immondizia perché noi producendo rifiuti abbiamo bisogno anche di uno smaltimento e parecchie volte dobbiamo chiamare perché i cassonetti sono strabordanti per cui rimangono aperti e non penso che sia una buona immagine per un locale con i cassonetti pieni di immondizia di tutti i generi che fuoriesce dai cassonetti. E a volte anche la pulizia della strada, se potete vedere gli escrementi dei cani, tutto lascia un po' a desiderare.